Tutta la vicenda che ha portato ad attribuirci soltanto una lettera con la firma dei due sottosegretari per 16 milioni di euro non ci è piaciuta, non ci piace, vogliamo capire che cosa c'è dietro perché se l'amministrazione comunale chiede 19 milioni di euro come minimo per poter quadrare il bilancio non vedo dove troveremo gli altri 4 milioni per poter fronteggiare questa esigenza. Aspetteremo adesso che il sindaco in aula illustri questo provvedimento, vediamo se ci sono state altre novità, se ci sono dei impegni ben precisi perché quella comunicazione è vero che in qualche modo impegna i due sottosegretari a trovare delle soluzioni ma ancora non vengono indicate perché non sono indicate nello strumento che può concederci questo importo e nemmeno la data in cui verrà fatto. Noi aspettiamo queste risposte e poi vedremo che cosa fare, ma ribadiamo che deleghe in bianco al governo e al Partito Democratico non ne diamo. Sì, è una delle ipotesi in campo, vedremo le risposte che verranno da parte del Partito Democratico. Chiaro che noi non possiamo dare deleghe in bianco al governo e al PD perché se la vicenda del bilancio fosse stata gestita in questo modo da un governo nazionale di centrodestra le reazioni sarebbero state ben altre. Il fatto che Renzi ci abbia trattato così non giustifica la mite reazione del PD perché appunto poi dietro a questa vicenda del bilancio ci sono questioni programmatiche che noi vogliamo assolutamente chiarire prima di affrontare l'ultimo anno di amministrazione.